Vorrei mettere in ordine la mia vita e non so neanche da dove cominciare. Ho deciso di venire a vivere da te. Sei gelosa? No. Sì. Gli opposti si attraggono. Sei geloso? Io. E molto. Di quello. Disturbo? Sto cercando di non farti sbagliare. Vuoi farti rovinare la vita un'altra volta? Megan Montaner, Alessandro Tiberi. In prima assoluta, lontano da te. Domenica in prima serata, Canale 5. Spesso l'amore sognato è il migliore.